In settimana ha visto le fasi conclusive del Golfo dei Poeti Film Festival, cortometraggio in gara a Lerici, vediamo com'è andata. L'amore, quello vero, è il cortometraggio vincitore della quarta edizione del Golfo dei Poeti Film Festival di Lerici. 175 i video pervenuti, 40 arrivati dall'estero, Iran, Estonia, Spagna, Stati Uniti, 32 i selezionati per le serate finali. Nel video vincitore protagonista Pietro De Silva, che ha ricevuto il premio come miglior attore, conosciuto per una splendida interpretazione nella vita bella di Benigni, ad ispirare in molti video i temi sociali. Dalla disoccupazione, anche non solo giovanile, ma di persone di età, sino ai temi sulla violenza alle donne, importante e molto di attualità purtroppo in questo momento, molto sensibili i ragazzi d'oggi alle tematiche della vita quotidiana. Miglior film straniero a quel non era io, film spagnolo che si è aggiudicato anche il premio per la migliore fotografia, un festival in crescita che quest'anno si confronta con il pubblico. Un sondaggio tra il pubblico presente e il risponso delle persone che sono presenti aiuterà a migliorare sempre le edizioni future del festival, accettando i suggerimenti e le idee che arrivano dal pubblico.